Rivolto alle scuole primarie del territorio della provincia di Pescara parte Progetto Bambino, iniziativa promossa dall'assessorato all'associazionismo politiche sociali e comunitarie della provincia di Pescara in collaborazione con il Centro Regionale di Eccellenza Clinica Oftamologica dell'Università d'Annunzio e con l'ottica Barberini di Pescara, sponsor privato dell'iniziativa. Il progetto fa parte del più ampio Cittadinanza in Vista e ha l'obiettivo di promuovere una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle principali patologie della vista dei bambini. Walter Cozzi, assessore provinciale alle politiche sociali. Faremo uno screening a questi bambini e sensibilizzeremo non solo loro ma anche i genitori per il problema della vista che è un problema sentito e quindi va, come dire, in qualche modo la prevenzione è sempre importante. Grazie.